Chi ci ascolta? Una domanda semplice che una risposta complessa, soprattutto quando i protagonisti sono ragazzi e ragazze dai 14 ai 20 anni, che mostrano un disagio psicologico. Ebbene, per questa fascia di adolescenti e giovani adulti, in Gallura il servizio di neuropsichiatria è carente. Ed è per questo motivo che la Segreteria Cittadina e Provinciale e i consiglieri comunali del PD di Olbia hanno dato vita ad un incontro dibattito sulle criticità dei servizi offerti. Oggi in questo territorio, in un momento post-pandemico, dove i casi di disagio mentale nei giovani certificati o non certificati aumentano, c'è la necessità di potenziare questo servizio perché spesso i giovani e le famiglie che si rivolgono alla ASL non trovano accoglienza e presa in carico, proprio per l'assenza di un numero di personale adeguato e quindi sono costretti a rivolgersi alla ASL di Sassari. L'intervento di Veroni Casara, presidente di Sensibilmente Onlus, ha fatto luce sui tempi, spesso molto lunghi, per dare avvio all'iter diagnostico essenziale per avere l'insegnante di sostegno e gli educatori a scuola. E poi i risvolti dell'assenza in gallura di un servizio neuropsichiatrico spiegati da Antonella Malu, coordinatrice dei servizi sociali del comune di Luriporto San Paolo. È emerso, ad esempio, che se un minore con problemi neuropsichiatrici si rivolgesse al pronto soccorso e avesse bisogno di un ricovero, la struttura più vicina sarebbe quella di Sassari. Dopo aver raccolto le diverse testimonianze, i membri del PD intendono farsi promotori di proposte concrete per un potenziamento in gallura dei servizi. L'obiettivo del nostro incontro è quello di raccogliere queste testimonianze e farci poi in tutti i consigli comunali della Gallura portatori di mozioni per chiedere direttamente ai sindaci della Gallura di portare avanti all'interno della conferenza sociosanitaria una richiesta di potenziamento del servizio. Non è stato un incontro contro nessuno, ma è stato solo un tentativo di portare al centro dell'attenzione un tema che riteniamo fondamentale.